Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 panoramica fino alle 17 di oggi per lavori nelle gallerie è chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Contestualmente sono chiusi gli svincoli di Roncobilaccio e Pian del Voglio in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Firenze, chiusa l'uscita di Rioveggio provenendo da Bologna. In Fiepile per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. La statale 330 è chiusa in località al Viano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!